Dottore, dottore, abbiamo appena ricoverato il paziente qui in reparto, eh? Eh, molto bene, ma è vigile? Ma noi ha detto che faceva il muratore Ma sei un stupidino, guarda Ma è vigile! Non lo sappiamo se è vigile, scusa Dottore Sì, mi dica Quando mi alzo al mattino Sì? Io ho sempre mal di schiena Beh, si alzi di pomeriggio Questa era... Questa era una minchiata, va bene, l'hai pensato, va bene Sì, no, ma han capito Ti sovo? Sì Cosa pensi della quinta di Beethoven? Ma guarda, in verità non sapevo neanche che avesse il reggiseno No! Pensa alla nonna di Beethoven La nonna di Beethoven? Mazza, c'era la tuboccia così